Don't sound like a mannequin, move your body again, girl fam you know your body hat, shake your booty then, every man fighting over you just like a hooligan, you make the MC show, I'm Hooligan, dancing, climb again, dip and come up again, you ready fit the dagger and just wipe and your boyfriend, tick tock, tick tock, tick tock, my golden hand, and I'm a fatting me, and I'm a fatting. Allora, in questo sabato pomeriggio che minaccia, pioggia, ma speriamo non piova troppo, abbiamo con noi Fabrica, è la vostra prima volta a Budapest, quali sono le vostre sensazioni dopo il concerto alla tenda italiana? È stato molto bello, siamo molto divertiti, sì, era la prima volta qui allo Ziggy Festival, sì, molto bello, la situazione è molto coinvolgente. Anche la città è bella, molto bella, ci piacerà. Avete avuto tempo di fare un salto anche in città, avrete tempo nei prossimi giorni oppure vi aspettano già nuovi impegni, nuove date? Speriamo domani di riuscire a fare un giro. Faremo un giro, anche ieri sera, diciamo, siamo arrivati ieri, quindi abbiamo già visto un po' qualcosa. Benissimo. Che messaggio volete mandare ai vostri fan qui da Budapest, ai vostri fan in Italia, nella vostra città? Noi li stiamo rappresentando, noi dalla Puglia, e siamo contenti di essere qui a rappresentare loro e consigliamo a tutti di venire qui per capirla, cioè per sentirla di persona questa cosa. È un festival che merita. Perfetto, grazie tante, un bocca al lupo, un grande successo a voi e buona Budapest. Ciao!